Mister Vecchi, innanzitutto complimenti per questo passaggio del turno, un passaggio del turno importante per la Feralpi che in questi 180 minuti con il Pescara ha meritato di passare. Sì, questo sicuramente, anche se non è stata sicuramente una gara facile né all'andata né al ritorno, però credo che nell'arco delle due gare abbiamo meritato sicuramente il passaggio del turno, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto delle buone gare, sono stati molto bravi i miei giocatori anche oggi, soprattutto a non accontentarsi di gestire una gara e meritatamente abbiamo passato il turno. Possiamo dire che avevate costruito comunque con quella 3-3 dell'andata la possibilità di passare al secondo turno della fase nazionale, anche se addirittura eravate andati in vantaggio per il 3-1. L'avevamo costruita sul 3-1, poi un po' ce la siamo fatta sfuggire questa costruzione, abbiamo commesso qualche errore, abbiamo rimesso in discussione un po' tutto, però siamo stati bravi a mantenere il vantaggio dei due risultati su tre e oggi credo che con grande personalità, soprattutto abbiamo giocato una gara indipendentemente dal risultato che ci poteva vantaggiare, di pareggio, abbiamo cercato di giocare come sappiamo fare noi, quindi senza far troppi calcoli, cercando di fare il meglio. In questi 180 minuti sinceramente le chiedo, si aspettava qualcosa in più dal Pescara? Mi aspettavo un Pescara così, con giocatori di grande qualità e che avrebbero potuto metterci in difficoltà dietro, creando tante occasioni da gol. Oggi in realtà abbiamo concesso anche poco e siamo stati molto bravi. Le faccio due ultime domande, la prima tra qualche ora ci sarà il sorteggio, preferisce qualche avversario invece di qualcun altro, se potesse scegliere. Sono tutte forti, però facciamo una trasferta vicina, andiamo a Reggio Emilia e siamo tutti contenti, siamo qui vicino, non andiamo troppo distanti. L'ultima per chiudere, a prescindere da quello che sarà il risultato di questi play-off, Vecchi sarà l'allenatore della Feralpi anche nella prossima stagione? Io ho ancora un anno di contratto e poi dopo chiaramente ci si deve sedere col Presidente e capire se la società e l'allenatore vanno ancora d'accordo, se va bene ancora continuare così. Io ho ancora un anno di contratto qua.